ciao oggi vediamo insieme l'uomo dei record il designer che ha vinto più compassi d'oro nella vita parliamo di richard sapper è certamente uno dei designer più importanti della storia non solo del design e con i suoi progetti ha realmente rivoluzionato la società in cui viviamo è di origini tedesche ma praticamente ha vissuto tutta la sua vita in italia ora vediamo un po di classiche informazioni per farvi capire chi è richard sapper è nato nel 1932 a monaco di baviera dopo aver seguito corsi di filosofia anatomia e ingegneria si è laureato in economia all'università di monaco e questo vi fa subito capire quanto la mente la sua mente creativa fosse in continuo fermento nel riuscire a conoscere sempre più cose e vi fa capire anche un'altra cosa spesso mi arrivano domande del tipo ma è fondamentale aver studiato design per fare i designer questo è il caso perfetto richard sapper non ha studiato design del prodotto industriale ha studiato molte cose ma non design del prodotto industriale e ha ispirato tantissimi designer della sua generazione e oltre quindi vedremo alcune collaborazioni che ha fatto con ibm vedremo il telefono grillo oggi ci concentriamo sulla sua vita e su alcuni progetti ma li vediamo in maniera superflua perché farò un video dedicato ai progetti più importanti che richard sapper ha realizzato appunto nella sua vita ha iniziato la sua carriera di designer nel reparto stile della daimler benz di stoccarda un'azienda che si occupa di realizzare automobili oggi è stata assorbita da altre realtà questa collaborazione è stata fatta ovviamente prima di trasferirsi a milano dove ha lavorato prima con l'architetto gioponti di cui ho fatto un approfondimento quindi se lo state cercando ve lo posiziono da qualche parte e poi nella divisione di design della rinascente un grande magazzino all'epoca noto per essere creativamente all'avanguardia ed anche qui ho fatto un approfondimento quando ho parlato dell'origine del compasso d'oro perché è tutto partito da la rinascente che tra altre cose esiste ancora oggi nel 1959 inizia anche a lavorare in modo autonomo realizzando radio per telefunken e neurologi per lorenz sempre con uno stile estremamente funzionalista la sua filosofia progettuale non è praticamente mai cambiata e si può racchiudere facilmente in due parole funzionalità ed eleganza e tutto questo in pieno stile made in italy per comprendere la filosofia progettuale di un designer basta guardare i suoi progetti proprio per renderci conto della grandezza e soprattutto bisogna guardare i dettagli appunto per renderci conto di quanto sia completo e complesso un progetto anche se lo vediamo in una forma molto semplice come potrebbe essere la radio cubo in realtà ci sono dei dettagli che ci fanno comprendere quanto sia stato complesso realizzare quel tipo di oggetto comunque ritorniamo a noi all'inizio degli anni 60 sa per inizia a collaborare con l'architetto italiano marco zanuso un sodalizio che durerà per molti anni e qui se ci fermiamo solo a lui ha collaborato con marco zanuso è un po superfluo però se andiamo nel dettaglio ci rendiamo conto che loro due insieme hanno fatto cose straordinarie come ad esempio la radio cubo di cui ho parlato prima tanto lo approfondisco poi il telefono grillo la seduta k4999 per cartel hanno sviluppato televisori e molte molte altre cose e la cosa incredibile che molti di questi oggetti sono presenti ancora oggi sul mercato hanno magari modificato la tecnologia interna del prodotto ma per il resto è rimasto identico durante gli anni 70 sa per è stato impiegato come consulente nello sviluppo di automobili sperimentali per fiat e su strutture pneumatiche per pirelli producendo il concetto di auto con una pelle flessibile progettata per ridurre l'impatto in caso di collisione e questa è stata una rivoluzione il design è responsabilità quando noi creiamo un oggetto siamo responsabili di quello che facciamo e soprattutto come lo progettiamo e che tipo di materiale andiamo ad utilizzare per quale motivo se l'oggetto è stato concepito con un materiale che ad esempio ecosostenibile in realtà stiamo creando un danno sull'ambiente nel suo caso ha creato qualcosa che ha condizionato profondamente le automobili perché questo tipo di diciamo tessuto questa pelle sulla carrozzeria dell'auto quando c'è una collisione tende a praticamente chiudersi come se fosse una fisarmonica e questo cosa fa riduce la forza di impatto che c'è tra le due automobili e in più questa forza di impatto non viene trasmessa in maniera così forte nelle persone che sono all'interno dell'abitacolo questa cosa ha salvato vite umane questo è appieno il concetto di responsabilità e ti fa subito capire la grandezza di quest'uomo che guardava non solo all'estetica del progetto ma guardava soprattutto alla funzione che l'oggetto stesso doveva avere nei confronti della società dell'uomo e di qualsiasi essere vivente andasse ad utilizzare quel prodotto proseguendo con la storia nel 1972 richard sapper insieme a sempre marco zanuso progettono un'unità abitativa trasportabile per il progetto la mostra che si chiamava italy the new domestic landscape tenuta dal moma di new york qui ho fatto un video approfondito con il moma di new york quindi anche qui lo metterò da qualche parte se vi interessa andate a vederlo è stata una vera rivoluzione perché nel 1972 questa mostra ha mostrato al mondo le capacità degli italiani non c'erano solo marco zanuso richard sapper c'erano molti molti altri come ad esempio enzo mari laolivetti achille castiglioni e molti molti altri nello stesso anno crea uno studio insieme all'architetto gae olenti per riuscire a studiare tutto il sistema urbano e come ridurre il traffico nelle città e questo tema è stato portato avanti fino alla triennale del 1979 questo è un tema ricorrente ancora oggi è presente e si cerca di ridurre al massimo appunto il traffico nei centri abitativi nelle città proprio per ridurre lo smog ci sono stati altri designer come pio manzu che hanno lavorato guardando questo tipo di concetto e si va oltre l'utilizzo ad esempio dei sistemi di trasporto come potrebbero essere gli autobus o le metropolitane quindi hanno guardato oltre puntando gli occhi verso il futuro per comprendere come risolvere un problema del presente nel 1980 andando avanti con la storia richard sapper ha collaborato con ibm come consulente e qui vediamo un balzo incredibile per quale motivo il frutto di questa collaborazione ha dato vita al primo computer portatile il thinkpad che è uscito nel 1992 questo è stato un progetto incredibile perché se guardate anche le linee pur essendo il 92 ha delle linee precise perfette così come una lunga serie di modelli che ne sono seguiti avete presente johnny ive l'ex capo designer di apple ecco non è nulla in confronto al contributo dato da richard sapper in ibm ha messo sul mercato qualcosa che prima non esisteva affatto il primo computer portatile della storia è firmato ibm ed è ovviamente l'azienda insieme a sapper che ha fatto un balzo quantico sul mercato grazie a questo progetto sapper comunque non ha lavorato solo nel mondo della tecnologia ha sviluppato tantissime altre cose dalle navi a nuovi sistemi di trasporto ha fatto un monopattino e i letto domestici tutti con la stessa filosofia estremamente funzionalista riducendo al massimo la decorazione che potrebbe essere all'interno del progetto perché ovviamente risultava superflua ho trovato molte informazioni all'interno del sito di richard sapper e vado letteralmente a citarvi alcuni progetti dico alcuni perché credetemi ne ha fatti un'infinità alcuni dei più importanti includono la serie k 1340 per cartel del 1964 il televisore algol del 64 la radio ts 502 del 65 per brion vega il telefono grillo che è una roba devastante fatto sempre con marco zanuso del 65 per siemens la lampada tizio per artemide del 1972 la caffettiera 90 90 nel 78 il bollitore 90 91 sempre per alessi del 1983 e qui mi fermo cioè io credetemi potrei andare avanti per un'ora a citarvi tutti i progetti che richard sapper ha realizzato nella sua vita durante la sua carriera non ha solo progettato anche insegnato quindi ha portato la sua esperienza all'interno delle università e l'ha fatto nelle università più importanti del mondo giusto per citarvene alcune la yale university la domus academy di milano la royal college di londra e molte molte altre facendo anche da consulente esterno quindi una vita sviluppata a pieno nella progettazione e nell'insegnamento di questo lavoro ricevendo anche numerosissimi premi richard sapper ha vinto 11 compassi d'oro un record il compasso d'oro per chi non lo sa è praticamente il primo oscar per i designer esistono tantissimi concorsi per il design molti sono commerciali chi vince un compasso d'oro significa che ha fatto qualcosa di straordinario nel mondo è morto nel 2015 a fine dicembre 2015 ha 83 anni ed è rimasto attivo praticamente fino alla fine se voi guardate ci sono delle interviste che hanno realizzato le trovate su youtube in età molto avanzata e lui comunque era lì attivo presente e questo è qualcosa di straordinario perché ha lavorato e sfruttato la sua immaginazione fino alla fine ora quello che ha lasciato è stato qualcosa di straordinario perché non ha lasciato solo oggetti ma ha portato la sua esperienza all'interno delle università e grazie a molti contributi che trovate sul sito di richard sapper ma anche su youtube vedete delle interviste in cui parla del mondo della progettazione e ci si rende conto di quanto questa persona sia stata straordinaria ora vado ad analizzare ogni singolo oggetto e lo farò all'interno della playlist dedicata di richard sapper dove trovate alcuni dei suoi progetti più importanti quindi se volete approfondire ancora di più richard sapper attraverso gli oggetti che ha progettato guardate gli altri video ok tutto qui se vi è piaciuto questo video lasciate un like iscrivetevi al mio canale fate quello che volete sono un po dappertutto se volete fare quattro chiacchiere dal vivo ci sono anche su telegram quindi se cercate il gruppo chiamato stefano pasotti lo trovate ogni tanto facciamo dalle chiacchierate parliamo di design a 360 gradi eccetera 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 tutto qui alla prossima ciao ragazzi